Saluto, carai, e benvenuto al mio primo medito. Odi io, è il primo medito numero 8. Questo significa che passi 8 giorni e il comienzo della tru di soligio, che ora è molto dura, e poi è molto dura. Mi volevo rispondere alla domanda. Chi veniva a me? Mi volevo rispondere a me, chi mi non prende sempre conventi, 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 con esperanto? E poi, mi volevo dire che la punto non è speranto, la punto non è speranto, la punto è riconvenio. Alcuni volte, mi lavoravo molto per la rete, mi riconvenio che mi devo lezioni per l'Europa progetto, per le contigioni dell'università e altre cose. E ora mi preferisco evitare riconveni, se non sono stricte interessi a me. Allora, sicuramente sono disponibili per invito, perché temi per parte della mia cattedra, per interlinguistico e esperanto, di svastire, di sconire, che mi sono interessati. Ma questo è il mio caso. Mi preferisco nemmo biletti, perdono. E' un po' di sconire. Il mondo è cambiato, e in ioi sensi mi adaptavo, e in altri mi decidi non adaptavo. Mi preferisco restare qui mi sono. Do, nenni io persona, nenni el tiù ci decido rilatas al esperanto cai esperanto tuio. Nu, longa, anto medito. Restu cunni, cun meditu cunni. Saluton. Mi ne comprenaschia. Oni considerasmi stranga. Samidea noi, ca' imalsamidea noi. Saluton. quinn, ca' mi legos el tiron nun. Antau cio, ni devas plene certigi la estontezon, ca' la senhaltan regulan eliradon de mia centra gazeto. Gi'estas la unuiganto, l'appelanto, ca' la regulatoro de mia affero. Per unu vorto, gi'estas la coro de mia affero. Tieni devas antau cio centri nian tutan forton. Ni ne devas usi flanche, ec' la plei mai grandan el niai fortoi, ca' i rimedoi materialai. Antau ol, ni estas tutte certai che la daurado de mia cento organo starà astute, exter d'angero. Se unu foion, ti ucicoro devos halti, tiam perdigios niafero, ca' i ginn ne povos savi, la plei grandai, sen sisteme, disse jetatai offeroi, chiui povas doni nur minutan l'umon. Ciam mi legis tutte hasarde citiun el tiron, mi estis iomete cortuscita, char la eldono de gazeto estis tiel grava, tiel forte unuigilo, ec' la coro de la affero, non estas tir facile, eldonigi per la reto ionain, gis la puncto che ni ne plou emotiigias, pri eldonagioi ca' articoloi. Do, mi iomete envias la pioniroin pro tiu entusiasmo, ciun ili havis, ca' nun tempe ni ne plou havas. Sed, evidente, tiu estas mia treperson'opinio, ca' vi tutte povas argumenti contrau mi, ca' ible mi pli felicios, se vi successos shangi mian ideon pri tiu. Dankon pro via attento, gis morgau, cai cielciam, antauen, sen fine.